Buone notizie per quanto riguarda il numero dei positivi nella nostra regione, soprattutto nella città di Chieti, che ha l'R con T più basso della nostra regione, Sindaco. Sì, assolutamente sì. Quello che ho in mano e che sto leggendo è il report di questa ultima settimana, che da Chieti un caso solo negli ultimi sette giorni e l'indice di prevalenza più basso rispetto a tutta la provincia. Due casi su centomila abitanti. Tenete conto che nelle cittadine, ahimè, un po' più colpite, arriviamo per esempio a Lanciano con 200 casi, 207 casi su centomila abitanti, 162 casi a Guardia Grele e Chieti ha solo due casi ogni centomila abitanti. Ma non solo. Nell'ambito di tutta la pandemia, da marzo 2020 ad oggi, su 2870 persone risultate positive, la stragrande maggioranza, 2749, sono tornate in comunità perfettamente guarite, con un indice di prevalenza dello 0,04, uno dei più bassi in assoluto in tutta la provincia. E questo, diciamo soprattutto negli ultimi mesi, grazie all'impulso notevole alla vaccinazione, che tra tanti problemi prevedibili e non tutti eludibili, sta andando avanti con grande celerità. Con la discesa in campo dei medici di medicina generale, che inizialmente vaccineranno nella stragrande maggioranza i propri pazienti non deambulabili e si terranno a disposizione dei centri vaccinali, dei centri vaccinali si avrà un impulso notevole alla vaccinazione. Tenete conto che già ora siamo ad un buon punto. Gli over 80 o gli over 80 anni sono stati vaccinati circa all'80% del loro numero. Siamo arrivati al 45,5% nel decennio 70-79, al 36% tra i 60 e i 70 anni e quindi stiamo andando avanti abbastanza celermente.